Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi, lunedì 13 febbraio. Cominciamo subito con il santo del giorno, poi vedremo le previsioni del tempo. Il santo di oggi è il beato Giordano di Sassoni, il sole è sorto alle 7.10, tramonterà le 17.34 minuti. Dicevo il tempo per oggi, avremo un cielo parzialmente nuvoloso per nuvole basse, con temperature senza variazioni di rilievo. Per la giornata di domani più o meno il tempo sarà simile a quello di oggi, con cielo parzialmente nuvoloso al mattino e schiarita invece nel corso della giornata. Le temperature sono in lieve diminuzione, il tempo comunque stabile e temperature in graduale aumento, lieve aumento per i prossimi giorni. Ieri giornata di carnevale con tanta gente che ha follato Viale Gramsci, di questo si parla nei giornali il resto del carino del Corriere Adriatico di questa mattina, le edizioni di Pesaro e Urbino. Cominciamo dal Corriere Adriatico, eccolo qua. Il pubblico risponde in massa ma i carri sono una delusione. Questa è l'analisi di Massimo Foghetti sul Corriere Adriatico. Con 50.000 tra mattina e pomeriggio alla prima sfilata, l'allegoria più imponente è quella riproposta. Apprezzate l'animazione sui carri e la qualità delle mascherate per il getto, anche il sindaco con la musica arabita. Queste sono alcune immagini dei carri che si sono visti ieri appunto lungo il corso mascherato. Allegria anche con questo gruppetto fotografato dal fotografo del Corriere. Tra incerte caricature, le più riuscite sono sicuramente quelle del Presidente degli Stati Uniti, Trump, poi di Berlusconi e di Renzi. La seconda pagina del Corriere Adriatico invece è per l'elezione della Miss più bella con Martina che la spunta su tutte. Martina di Lucrezia è la più bella di tutte. Tra i palchi vince andiamo a coltivare la chiusura della festa in piazza con il concorso e le premiazioni. Il sindaco parla di un fiume di gente e nella immagine vedete il sindaco di Fano qui sotto. Il sindaco di Fano che saluta e si trova proprio sopra il carro in alto, quello della musica arabita, mentre la bella del carnevale è Martina Olivetti, 17 anni, di Lucrezia appunto. Sotto invece lo spettacolo più bello è quello dei bambini, tanta partecipazione all'antepriva mattutina e tutti erano in maschera. E sempre Foghetti scrive quasi quasi il carnevale dei bambini per affluenza e animazione fa le scarpe alla sfilata maggiore dei carri allegorici, quella che si svolge al pomeriggio. Tanto l'esordio del corso mascherato che per la prima volta dopo diversi anni ha contemplato la presenza delle costruzioni allegoriche di prima categoria ha attirato una grande folla. E il resto del Carlino invece in prima pagina, eccola qua, carnevale blindato, punta sulla sicurezza con Fano che fa il suo esordio con 50.000 persone, tanto divertimento ma per la prima volta nella storia dell'evento c'erano carabinieri e poliziotti che perquisivano ai varchi. La pagina interna, eccola qua, del resto del Carlino esplode, l'allegria, vincono i colori, calcolate almeno 50.000 persone in Viale Gramsci. Queste sono le fotografie con sopra invece metal detector e le barriere al carnevale accurati controlli di dispositivi per evitare incursioni in stile in tir, le incursioni con i camion come è successo a Nizza. Le altre pagine, e torniamo al Corriere Adriatico, vediamo la pagina principale. Al di là della fotografia a centro pagina dove appunto c'è ed è dedicata giustamente al carnevale di Fano, si parla di cronaca con questa notizia che riguarda una tredicenne, una ragazzina che ha rischiato il coma dopo aver bevuto e si sono sballate con l'alcol fino a sfiorare davvero il coma etilico, una notte di paura per tutti, quello che è accaduto a tre giovanissime nella notte di sabato in una discoteca dell'Interland pesarese. La prima è di soli 13 anni, si è sentita male nel bagno, stessi attimi di angoscia per altre due ragazze di 15 e 20 anni, il 118 è intervenuto tre volte alla stessa festa e le ragazze sono state portate al pronto soccorso. Del caso si occupano i carabinieri, bisogna adesso accertare se l'alcol sia stato assunto all'interno oppure all'esterno della discoteca. E poi disagi per l'interruzione idrica, ma il corso piace senza le auto, parliamo del corso di Pesero, le fioriere all'incrocio sono temporanee solo per il consolidamento dei mattoncini, quelli che vengono chiamati i sanpietrini. Entriamo nelle pagine interne del Corriere Adriatico. Allora, sempre da Pesero, Campanara, la fiera di Campanara, fine di un'epoca in vendita tutti i beni mobili, via alla demolizione totale del capannone C, quello distrutto dalle fiamme qualche mese fa, Bricofer subentra invece a marzo. Dunque la fiera di Campanara mette in vendita tutti i beni mobili, e via alla demolizione totale del capannone, quello distrutto dalle fiamme lo scorso anno, nel mese di giugno. Questa è la notizia in evidenza sulla pagina di Pesero del Corriere Adriatico. Invece, da Colli al Metauro, da Montemaggiore al Metauro, un milione per ridare vita al palazzetto dello sport, quello distrutto dalla nevicata di cinque anni fa, proprio come in questi giorni, cinque anni fa, a quest'ora eravamo qui a raccontarvi non del carnevale, ma dell'enorme disagio provocato da metri di neve caduta in pochi giorni. Oggi verrà presentato questo progetto, l'ex sindacolesi dice se ci fossimo dimessi prima si sarebbe bloccato l'iter. Mentre a Fossombrone lo stradario, quindi la mappa delle strade della città, e un tablet, quei marchi ingegni elettronici che si usano con il dito, con quei grandi telefoni, lo dico magari per i più anziani, sono stati regalati dal comune al 118, perché sapete nei mesi scorsi c'è stata la polemica per questo stradario non aggiornato, però l'apotes dice che nessuno ci ha coinvolto. Replica del dottor Dentale sulla mancanza di menzione nel comunicato ufficiale. Da Urbino, riforma Ersu, faccia a faccia tra la regione e i sindacati, sciopero in bilico, domani si decide e si attendono segnali da Ceriscioli. E poi la Valle del Cesano, la cronaca con i ladri sempre in azione, questa volta siamo a San Costanzo, dove sono stati derubati di tutto, il formaggio, rabbia dei giocatori di Ruzzola, raid durante la gara, tre auto sono state svaliggiate via con otto forme di pecorino. Ormai si ruba davvero, si porta via davvero di tutto, siamo tornati ai ladri di polli. Il fatto è accaduto in una strada secondaria di campagna nella frazione di Solfanuccio, in via dei Cipressi. La prova si svolgeva in una strada di campagna secondaria, non hanno preso la damigiana di vino, però insomma hanno portato via tutto il formaggio. Questo ragazzi adesso al di là delle battute, al di là di tutto, ma ci dovrebbe far pensare e capire come stiamo messi. Noi continuiamo ad arrabbiarci al bar per l'Inter che non vince, il Milan che perde e la Juventus che prima. E qui noi intanto stiamo andando sempre più in basso, ma comunque noi siamo così, siamo fatti così. Forse ce lo meritiamo pure. Sulla vetta del Catria invece, sulla vetta del Catria le chiede di sposarlo. Romantica scesa in quota sotto la croce, le dà l'anello, lei si emoziona e dice sì. Si tratta di Patrizio, trentenne di Mondavio, che ha fatto questa proposta di matrimonio a Laura, l'ha portata fino a 1701 metri, proprio sotto la croce del Monte Catria, e poi in questo angolo affascinante, straordinario, che poi in questo momento, figuriamoci con la neve, è ancora più bello sicuramente, le ha chiesto se voleva sposarlo e lei ha detto sì. Però lui dice che non era scontata questa cosa. Adesso chiudiamo con il resto del Carlino. Torniamo sulla pagina di Peso del Provincia, perché anche qui c'è ampio spazio al dramma sfiorato di questa tredicenne che è finita in ospedale in Cometilico, soccorso a altre due ragazze ubriachi, i carabinieri adesso cercano di appurare se, come dicevamo, gli alcolici siano stati acquistati fuori oppure dentro la discoteca. Avevano passato la sera il Colosseo di Montecchio. E poi la crisi del trasporto con camionisti sul piede di guerra, concorrenza sleale e troppi costi. I camionisti costretti a tirare il freno, l'allarme è lanciato da 150 aziende all'assemblea di confartigianato. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. Vi ricordo che per le vostre segnalazioni c'è il 338 4968 250. Potete inviarci filmati, video, foto o semplici messaggi di testo utilizzando appunto WhatsApp. A voi tutti gli auguri di una buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.